Diego, Diego, se la sirena non funziona che fai? Che faccio? Maronna mia, che fai? Sparo bengala. Ecco, bravo Diego. E se la sirena canta, che ho già fatto? Niente, non devi fare niente, mannaggia a merda. Se la sirena canta ti nascondi sotto il casarello e ci aspetti, hai capito mo? Cinque minuti e siamo da te. Mi nascondi sotto il casarello e vi aspetto. Cinque minuti. Cinque minuti sassai, però, com'è? Cinque minuti e niente, sta tranquillo. Stanotte c'è sta l'uno. Quella gente di merda non si farà vedere. Quella gente di merda? Eh sì, è gente di merda. Andiamo. E andiamo. Grazie. 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 Grazie.